ciao e bentornati sul canale questi li abbiamo già ritrovati qua qua li abbiamo ritrovati qua perché li abbiamo già presi in sicilia e questo invece l'abbiamo ripreso perché l'abbiamo ritrovato qua sì e adesso lo apriamo non c'è la facilità no no c'è 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 non la trovavo facci vedere la facilitata non ci crediamo ok facilità facilità lì non facilitare in giro l'hai sbucciato non l'hai facilitato ma tu pensi se l'ha sbucciato questo è quello che ha tirato via tiriamo un al pugno è no no ma non devi romperlo non facciamo vedere che cosa abbiamo trovato una coppetta blu metà guscio blu checklist allora io mi ricordo che l'altra volta avevo trovato il topo remi e io volevo o cookie o butter che abbiamo trovato anche oggi è carino e invece cioè invece ecco poi sono così ovviamente sono un po diversi dal disegno ma cosa abbiamo trovato e andiamo nella casetta prima andiamo per step casetta carina verde e arancio sembra una carota vediamo non è una carota non è una carota ma io ho capito chi è è giallo è giallo è giallo è giallo cosa è giallo il personaggio no no non è giallo quello che volevo dire non è giallo e il coniglietto comunque brilla al buio è ben trovato coniglietto il cavallo minuscolo è il cavallo ma è piccolissimo e carino il topo era più bello è decisamente non mi ricordo dove l'ho messo però è veramente minuscolo cioè e va dentro la sua casetta perché i cavalli sono nelle cucce è un cavallo mini gli altri erano un botto più belli questo secondo me abbia trovato uno dei più abbiamo trovato uno dei più brutti però questo succede ma non perché ho di cavalli o abbia qualcosa contro i cavalli anzi io li adoro i cavalli è che ha fatto male esatto non tanto bene secondo me già la mucca dotti dotti de cao era già più bella secondo me bene quindi oppure jacky de donkey quindi cookie de bunny e butter de shipper erano i più belli secondo me i conigli e la pecora tanta roba magari ci ricapiterà vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un like o dividere commentare schiacciate la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre noi vi salveviamoci nel prossimo video ciao